ACDC to the mist of time alle 7.33 minuti di oggi venerdì 10 maggio Gli eventi della settimana a cui io non andrei Buongiorno Eribi Buongiorno Allora, settimana impegnativa per noi è qua con la Civil Week Quindi non ti dico quanti eventi e quanti eventi ho pensato a cui tu potresti essere Ho letto dei titoli veramente che potevi Pensa che io ho fatto una scelta stilistica Sì, dimmi tutto Cioè non ho messo dentro neanche un evento della Civil Week Va bene, grazie Sono stata molto brava Sì, infatti In magnanima Meglio così perché poi io ci devo andare e non volevo sentire gli insulti Esatto, esatto Comunque è una settimana impegnativa anche per me, non so perché Ah, va bene, succede ogni tanto Ogni tanto succede Allora, allora Intanto è il primo evento a cui non andrà l'Eurovision Sono qua Però la stai guardando So che lo stai guardando Sto guardando e purtroppo Scusate perché mi accusano di mettere la L dove invece va la R Non vedrò neanche la finale Eh, questo è un poccato Sì, so che sei occupata Troveremo il modo Troveremo il modo Cosa dici di Angelina Mango ieri? Tanta roba Tanta roba soprattutto per una ragazza così giovane E soprattutto ha fatto una esibizione da Eurovision Cosa che solitamente l'Italia non fa È vero, è vero, è vero Di solito Devo solo dire, l'ha fatta da Eurovision senza però cadere nel Nella trappola Nella trappola dell'Eurovision Che fa quel circo baraccone Un sacco di acclamazione Sì, sì, sì Non succede Ma se succede stavolta andrà a Milano Chi può dirlo Chi lo sa Anche se quando è salita la Spagna però Eh, beh, beh, beh La canzone da Spagna la sapevano tutte Tra l'altro non so se è vero Ma Israele ha beccato una marea di voti dall'Italia Ah, e non l'ho guardato Non l'ho visto Non l'ho visto come è andata Non l'ho visto questo Sì, la signora della Spagna è veramente fantastica La signora della Spagna Diciamo signora perché ha una certa età Grandicella Ricorda lontanamente un po' una Raffaella Carrà Così un po' Anche se io amo molto Europapà Europapà è bellissimo No, vai bene Molto commuovente sul finale Va bene Ma bando alle ciance Andiamo avanti su quelli che sono gli eventi Dove io e Ribi non andrò Ah, primo tra tutti C'è una roba super amarcorda Almeno per quanto mi riguarda Ma spero che in qualche modo Sia ancora in auge Per chi l'ha organizzato C'è lo Ska Fest Il festa dello Ska? Sì Il reggae è velocizzato Sabato dalle 19 Al Legend Club Milano Che in zona ni guarda A partire da 16 euro i biglietti C'è sto Ska Fest Dove ci saranno anche i Vallanzasca Quindi ho pensato Gente vecchia che va a ballare i Vallanzasca Non ci vuoi andare? No Ah, va bene, ok No, 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 grazie, grazie Ah, sono andata a sforare Vallanzasca Perché non so se non è il criminale Ma un grande gruppo musicale Vallanzasca Scritto con la Ska Che suonavano Quando noi eravamo dei giovani Sì, decisamente Molto giovani Sono Ho sforato anche Nella settimana prossima Perché c'è l'evento Degli eventi Dove io non andrei Che è il concerto di Radio Italia Ah, ok No, però fossimo già All'artigiano in fiera No Quello è l'eventissimo Quello è l'eventissimo Comunque C'è il concerto di Radio Italia Mercoledì 15 maggio Dalle 18 In Piazza Duomo Una volta soltanto Sono andata Faceva un caldo Cane C'era troppissima gente Adesso Ho capito Che forse C'è una sorta Di contingentamento Beh, sì Ti devi registrare Sul sito di Radio Italia E andare lì Ma io continuo a ripetere Chi non si registrerà Andranno lì comunque E staranno nelle vie di fianco Quindi sarà un Ah, e stamattina Ho visto una storia di Fedez Dove ha vinto Tra virgolette L'ennesima causa Contro il Kodakons Che dice che non esiste Il fatto In sostanza Non sussiste Non sussiste il fatto Ma gli hanno fatto Una domanda su Love Me Che ci sarà di nuovo Anche quest'anno Ecco Ci mancava anche quella Quindi sarà un'altra Bella notizia per te Immagino Sì, ma di no Io sono contrarissimo Ai concerti E alle manifestazioni In Piazza del Duomo Ok Andiamo avanti Sempre mercoledì A Mare Culturale Urbano C'è Tango Bar Al Mare Pratica e lezioni A partire dalle 20 Ti ci vedo benissimo Dai, non ti piace Fare il tango Sai cosa penso sul tango? Che sia imbarazzante Cioè Stimo tantissimo Per chi ci riesce È bello Però Per chi lo guarda È un po' cringe Non lo so Non ho capito Da dove attinge Questa tua Non lo so Mi fa imbarazzare Ah, poi c'è Orticola Amici Ho sentito Sabato scorso Qualcuno che ne parlava Con tantissimo entusiasmo Al pranzo in cortile Mi sono dovuta Mordicchiare la lingua Per non dire Ma un po' Non è cosa Spiega cos'è Orticola Intanto Viene fatta Giardini pubblici Indro Montanelli Dal 9 al 12 maggio Quindi è già partita E andate lì E andate lì E comprate tutte Le vostre piantine Penso che potrebbero Chiamarti Per fare il volantino Il manifesto Di Orticola Vieni a comprare Le tue piantine Le tue piantine Ma non bene Non è che non mi piace È molto bello Ma io ho il pollice nero E quindi per me È una cosa inutile Se ti senti tu in difetto Perché non sei capace Di fare una cosa Non è che non devono Fare la manifestazione Senti questi sono gli eventi A cui io non andrei Non che gli altri Non ci devono andare Ok giusto Poi ci sono Un'altra roba super Amarcord Scusami Vien da ridere Domani all'Alcatraz C'è il concerto Degli Eiffel 65 Sono ancora vivi Sono ancora vivi E lottono insieme a noi Grandi loro Cioè non saprei veramente Dove andare a sbattere la testa Se è allo SCA Festival O al concerto Degli Eiffel 65 Comunque raga Se vi piacciono E siete nostalgici Di quei tempi Più giovani 35 anni più giovani Cioè ma cosa fanno Per due ore I'm blue Dab Dab Tutto questo Tutto due ore Non so Hanno fatto anche Credo nemmeno Ho fatto anche altre canzoni Sì C'era anche questa Non so se quella fosse loro Venite mi incontro amici Come si chiamava La seconda canzone Degli Eiffel Va bene Martedì invece C'è una cosa Che potrebbe interessare a te Ma a me no Assolutamente A partire dalle 20 Anzi Alle 20 A Rozzano Nella pista dei go kart Bello Ok C'è MKC presenza Squid race La 60 giri Sono due fasi In sostanza Chi supera la prima fase Poi si scontra A fine Con Nella seconda fase Non è proprio così Va bene Sì vabbè Fa la gara In realtà ci sono tipo Adesso non so se 10 o 15 giri Poi a un certo punto Sono soltanto due I pit stop Diciamo A un certo punto 60 giri Sì a un certo punto Devi cambiare anche le gomme Sì ma succede questo Che poi ogni giro L'ultimo viene escluso Ah boh Questo non so come funziona Per quello è Squid Prima non si chiamava Squid Era tutt'altro Certo Si chiamavano gare all'imignazioni Sono sempre esistite Adesso per andare dietro Al trend Di Squid Game Così le chiamano Squid Questo ti piacerebbe Sì sì Sarei il primo eliminato Però bello Ah Domenica la festa De la mamma Auguri alle mamme Quindi se non lo sapevate Iniziate a prepararvi E andare a comprare Qualche regalino Per le vostre mamme C'è mamme in festa Al mercato centrale Quindi in stazione centrale C'è un laboratorio creativo Dedicato ai bambini Alle loro mamme A partire dalle 15 Ci andrai Fabio Sicuramente Guarda Vado a fare i lavoretti Quindi Sicuramente questo Come sapete bene Io non ho bambini E non sono più un bambino Quindi non posso fare I lavoretti Per i bambini Concludo Con l'ultimo Che in realtà È una cosa Che mi piace Ma mi fa allo stesso tempo Arrabbiare Ed è Dal 10 al 12 maggio Quindi partire da oggi Fino a domenica Agli Arcimboldi C'è Arturo Brachetti Solo The Legend of Quick Change Eh Io non ci vado Perché Cioè Mi nervosisco Vorrei farlo anch'io Vorrei capire Come si fa A cambiarsi così velocemente Cioè no Fammi capire una cosa Tu non vai A vedere Un artista Come Arturo Brachetti Solo perché Mi nervosisce Sì 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 Vabbè Pensate voi come stiamo messi Eh vi ho dato un sacco di eventi Questa settimana Cioè Questa è anche un po' la prossima Perché ci sono bene il tango Il concerto di Radio Italia E la roba dei go-kart Che va nella settimana prossima Sì C'è qualcosa Madonna Questi erano i blu Sì ma non solo questi Move your body No ma io ne pensavo un'altra Anche però No Non ho trovato questa Se vuoi Mamma mia Pensa due ore così Move your body Come with everybody Eh Mamma mia Quindi c'è già due canzoni però Io ne so anche una terza Anche una terza Ma soprattutto Poi ho visto che sono uscite canzoni Anche nuove in realtà Sì ma infatti c'è Molto probabilmente Non sono del tutto morti E vabbè 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 Dai Allora ti devo salutare Siamo arrivati alla fine Del nostro intervento Non mi hai ringraziato però Questa mattina No ti ringrazio adesso Volevo ringraziarti tantissimo Di questa opportunità Che mi dai E volevo augurare a tutti Una buona festa della mamma Giusto E anche una buona festa Di 40 anni Di Crystal Radio Per poco Non siamo coetanei Quindi Come ci si sente A avere 40 anni Lo scopriremo domani Domani mattina Lo scopriremo solo vivendo amici Anche tu Quindi magari ti tiro in mezzo Domani mattina Sì Bisognerà vedere se ho voglia di parlare Ok Va bene Ok Può essere che non hai voglia di parlare Sotto mattina Può essere Domani sarà una giornata difficile Va bene Ok Va bene amici Buon lavoro a tutti Grazie mille Alberto Alberto dici Quelli che non hanno Italia Eiffel 65 Ulca Alberto Pure i Eiffel ti piacciono Edientemente Caspita Caspita Sì Vedi È molto molto più Ma la domanda numero uno Sarà la formazione originaria? Due erano Appunto Ma sì Ma io non vorrei Su questo io sono veramente La dico Ma che No Non c'entra Non lo so Infatti io non ho mai Ma sì No uno dei due non era Gabri Ponte Ma sì dai Adesso ma aspetta No se uno non era Gabri Ponte Ma sì dai Non lo so Perché tra l'altro Ti ho scoperto in questo momento Che Eiffel si gare con due L Quindi Eiffel Sì Io cercavo Eiffel Eiffel e non l sola Vediamo chi sono gli Eiffel La informazione Gabri Ponte Infatti Sì sì Ah vedi un po' No era lui Era lui Si vede che l'altro L'ha bisogno di soldi Va bene No dopo questa cattiveria Me ne vado Ciao buona giornata a tutti Va bene Comunque Jeffrey J E Maui Sono gli attuali Gli ex membri Gabri Ponte Che appunto non c'è più E quindi non ci sarà Gabri Ponte Ah vedi Quindi erano in tre No no erano in due È arrivato poi al posto di Gabri Ponte Un tale No non è vero Erano in tre Sì Jeffrey J Maui alle tastiere E Gabri Ponte come DJ Nel 2005 Gabri Ponte se ne va E poi torna nel 2014 Ciao Ribi Ciao 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 Ciao!